Ehi, accidenti! Che sballo, eh! Ci volevano affegare! Chi ha avuto quest'idea così brillante? Sta calmo, non ne sapevamo nulla neanche noi, d'accordo? Non tiene da Springfield quest'ordine, io non centro niente. Signore, se questo è il meglio che possono fare, allora che stanno aspettando? Perché non le sparano e la fanno subito finita? Maledizione! Sono di nuovo sull'autostrada principale, l'auto di testa ha aperto un barco nella barriera. Solo che si è completamente distrutta, l'auto in fuga è passata indenne. Anche la seconda auto della polizia è a posto, ora la strada che hanno di fronte è completamente libera. Jenny, Jenny, va tutto bene? Tutto bene, non va bene niente, non è stato affatto divertente. Jenny, è stato un errore. Un errore? Sono Wally, senta, è la polizia di Springfield che l'ha deciso, noi ne eravamo totalmente all'oscuro. Guardi, io non mi fido più di voi e non ti crederò mai più, ha capito? Siamo soltanto un problema di cui volete sparazzare. Si sbaglia, ci siamo tutti dentro e stiamo cercando di fare del nostro meglio. Ma se io non me lo provo. Certo, appena ne avrò l'occasione. Mi ascolto i genti? Adesso stia tranquilla, la strada è completamente libera. Quanto carburante ha? Ho ancora mezzo serbatoio. Ecco, lo vede? Ogni miglio che fa è sempre più vicino a svuotarlo. È più calma ora? Non gli date retta per fermarci, basta tagliare tutti i cavi delle candele. I cavi delle candele? E se facciamo fuori l'impianto elettrico muore anche il motore? Le candele sono nel cofano. Lo so dove si trovano. E il cofano è chiuso, ma è proprio scemo. Basta sollevarlo e quello vola via. C'è un cancio là sotto, quello non può volare via. Sì che vola via, c'è il vento che lo fa volare. E allora tu che cosa vuoi fare? Arrappicarti fuori? Oh, ma certo, vuole arrappicarsi fuori e passeggiare sul cofano. E lo faresti? Ecco, beh, io... Certo, lo so che è un suicidio, ma che altro ci resta da fare? Allora, siamo pronti? Spostati. Ah, tanto non funzionerà. Non si aprirà mai. Sì, che si apre. Ok, proviamoci. Sadie, scusa, ma tu come ti chiami? Dex. Dex, stai molto attento. Se io non me la cavo, e voi sì, dite a mia madre che non l'ho fatto perché sono uno spaccone. Porca ladra. Ok, aprilo. Visto? L'avevo detto io. Non c'è nient'altro. Non farmi fare brutta figura. Porca ladra. Oh, mio Dio. Porca ladra. Porca ladra. No. Oh, mio Dio. E' andato. Improvvisamente il topo non si è staccato. Ed è volato via come un Kleenex. Mi raccomando, sta molto attento. Prego, non lo faccia, non lo faccia. Tem entered non lo faccia, non lo faccia, non lo faccia. Non lo faccia, non lo faccia, non lo faccia. E' la messa, non la faccia. Beh, ma not suddenly. Brimba. La torta è dalla mia cucina. Erre, spartan- Grazie.